Cammariera! Cammariera! Ma questa è una porcheria! E mettetemi il rapporto col padrone, col solti, voglio soddisfazione, mannaggia la vita mia! Io ho portato con me la mia consorsia, Nannino Cien da Bellizza, e il mio compare che viene dall'America dopo trent'anni di permanenza colà per farci una ricca manciata e per divertirci. Ma a me mi pare che ci stanno andando se che hanno un po' curito. Va bene, Ferdinand, calma, ti amo. Ma tornare, la gammariera, vorrete che dici il compare? Ma scusate, se parla sempre lui... Se parla dici, se anche una bomba a idrogena a scoppia ritardata, vicino a Ferdinand García 37 parla sempre lui... E allora chi dovrebbe parlare? Lei, o? Un misero gammariera per il quale non lo riconosco nemmeno perché è spornito di giacca bianca e quindi in difetto secondo le indisposizioni igieniche del CCC. E va bene, ma metta giacca bianca, ma si può sapere che resta il CCC? Il CCC è il codice civile gammariera, cratina. Sì, ma Ferdinand, belle nanninato, io non c'ho tutto il gamm. Sì, ma compà, calmatevi. E poi, comare, si trovi in uno stadio che non si può pigliare spaventare. E fra pochi giorni sarete padre. È giusto, ma annaccia la vita mia. Dunque, antipasto di prosciutto, burro, a oliva e un pizzico di tonne e spaghetti alle vongole. E per dopo? E per dopo faremo il ritornello se ci fa piacere. E va bene, un antipasto e spaghetti alle vongole per il numero quattro. Compa, a me quel numero quattro non mi piace. Quattro fa il porco. Ho già l'impressione che il cameriere mi ha chiamato porco. Non ho deciso di manca per partire, compà. Ecco, ho servito l'antipasto. Cameriere, cameriere, la prego. È mezz'ora che attendo l'antipasto di salame e non me lo si porto. È un momento, sto parlando col signore. Ma che signore è signore? Questo è un indecente. Com'annaggia, non ci sono nello di impalsamare. No, tu guai. Ciao, ma tu partina. Compa, comare, se mette a paura, il figlio non nasce. Eh, non nasce, compà. Non mi passa manca per dire da quel signore all'indecente a chi ha partito. Ma no, voi avete capito malo. Lui ha detto indecente. Ho capito benissimo. Io ho ordinato un antipasto e spaghetti all'evongolo senza l'indecente. Eh, va bene. L'indecente la porterò a lui, a voi, prima della frutta. Vi porterò un formaggio speciale. C'è anche una maruzza che corna. Che è stato, compà? Calma, tu partina, non fai mettere paura. Il l'ha già scassa faccia, sto piettino. E' ama, carizzo. Eh, non avete sentito. Vi porto un formaggio speciale. Il formaggio si fa con il latto. Il latto lo fa la vacca. La vacca è la moglie del toro. Il toro c'ha le corna, compà? O cammarino mi ha chiamato cornuta. Ma voi vi sbagliate, compà? Oh, mamma mia, come sei premaloso, Ferdinà. Pronti gli spaghetti. Non, Ferdinà, mangiate forte. Eh, ma mannaggiavi, da visto cammarino, siamo tutti comini. Ha detto mangiate forte come per dire rinforzatevi. Ma non ci facite caso? Eh, ma io non mi sono sbagliato. Io non mi sono sbagliato. Stamma lì, nella radio mi ha dato un buongiorno. Stavo a costruire, stavo. Volevo sentire la canzone, c'erano lo festivale e saremo. E' quello niente di bene che vanno a strasmettere una canzone che abbiamo portato io e tattura. Eh, qual è, Ferdinà? In te lo facciamo il caffè, non l'ha giuntito? Non l'ha giuntito, non l'ha giuntito, non l'ha giuntito, non l'ha giuntito. Ma come? Fa' nesta calociva. Oh, la verità, quella è troppa triste. Eh, ma non appena mi ha giocato la barba, come se vuoi fare? Mangio tagliato a me, se faccio. Una ponte nase. E poi mi ha portato il caffè che ci stavano 25 grammi di po' sari. Ha giocato l'occasione, ma manca a farlo apposta. Siamo capitati in questo ristorante dove ci stiamo avvelenando l'esistenza. Eh, non ti fissi, hai amma, avvelenando i natoi, bevono coca, bevono. Compa, ma facciamo un brind se la salute del mascolo che deve nascere. Anzi, ma scegliamo pure un uomo. Ah, Ferdinà, niente, eh? Perché Ferdinà, ce ne sta uno solo, e sono io. E allora lo mettiamo un uomo a combare, va bene? Va bene. Ok, compa, felicissima. Anzi, è un buon segno, voi rite, stanno avendo le suonature da questa parte. Prima, tu, accomodarlo, compa, non lo voglio. Allora, questo va aspettato, mi ha accostato, va accostato, va a questa parte. Io vorrei poi sentire qualche canzone, c'è l'allera, allera. E dopo lo potete accomodare pure a mangiare con noi, se credete. Stato qui, è niso, signora, attacca, vuoi amare? Allera, allera, allera. Allora, cosa mangia? Come andacciavi da me? Come andacciavi da me, chiamata a cera? Chiamata a cuor spremio, chiamata a cuor spremio, chiamata a cuore. Oh, come andacciavi da me? Allora, come andacci Trading کے Marta Pogto, chiamata a cuor spremio, chiasi army. Allora, ciao. Ciao, ciao, ciao.